A molti di voi sarà capitato di organizzare la serata perfetta, quella in cui tutti danno tutto. Tuttavia a volte qualcuno esagera, generando catastrofici eventi non preventivati. I nostri migliori scienziati lavorano da anni in strutture all'avanguardia, al fine di risolvere le inaspettate pieghe delle vostre serate. Ti voglio nel mio letto. O evitare inutili, quanto inevitabili, defiance. Ma quale defiance? Ubriaco come sei, non ti si alzerà mai. Parcheggio perfetto! Non parcheggerai più la tua auto in luoghi ameni e sperduti per poi non ritrovarla mai più. Che c'è vuole? Mo lo segno. Strada, bosco, muretto, albericcio. Dopo innumerevoli ricerche, siamo finalmente giunti alla soluzione definitiva. Salva sbronza Beghelli, la rivoluzionaria tecnologia che con un solo clic ti permetterà di essere geolocalizzato e salvato dai tuoi amici. Una volta attivato, il dispositivo invierà un segnale di pericolo agli amici da te selezionati per il tuo recupero. Salva sbronza Beghelli, la rivoluzionaria tecnologia che metterà al sicuro le tue serate.